Infermieri sul piede di guerra per sostenere le ragioni dei loro colleghi in servizio al presidio ospedaliero San Giacomo d'Alto Passo di Ricata per una disposizione del direttore sanitario del nosocomio che prevede il trasferimento di reparto nel caso in cui un operatore si assenti per malattia per un periodo superiore a dieci giorni. Insorgono i sindacati e l'ordine delle professioni infermieristiche. Per Carmelo Aversa, segretario provinciale della UIL, Federazione Poteri Locali, ha dell'incredibile la decisione presa del direttore sanitario facendo funzione del presidio ospedaliero di Ricata. Il personale infermieristico in malattia per un periodo superiore ai dieci giorni, si legge nella disposizione, verrà trasferito in altro reparto e destinato all'unità operativa ritenuta più opportuna. Dalla nota pare che il trattamento venga riservato solo ed esclusivamente agli infermieri. Non è dato sapere se la stessa procedura riguarderà anche altri profili professionali. In ogni caso, Carmelo Aversa ha chiesto l'immediata revoca della disposizione, ritenuta discriminatoria ed arbitraria, nonché antidemocratica. Inoltre, l'ordine delle professioni infermieristiche è pronto a costituirsi parte civile, arrivando, se necessario, fino all'ultimo grado di giudizio, per contrastare le aggressioni verbali o fisiche e le minacce in danno dei propri iscritti. A dichiarare la tolleranza zero, a seguito di recenti fatti di cronaca, è il presidente Salvatore Occhipinti, che interviene in merito alla vicenda di cui è protagonista il nostro comunicatese. L'assenza per malattie è un diritto sancito da norme contrattuali e legislative. Il nostro ufficio legale, dice Occhipinti, è pronto a portare nelle sedi opportune la vicenda per garantire questo diritto agli infermieri che operano nel presidio ospedaliero di Licata. in merito alla paventata assegnazione a nuova unità operativa per quanti dovessero assentarsi per più di dieci giorni a seguito di malattie o infortunio. Ci sembra non solo un provvedimento contra l'Egem, ma anche alquanto discriminatorio, aggiunto Occhipinti, motivo per cui siamo pronti ad adire le vie legali in difesa dei colleghi infermieri se la disposizione non doveva essere rivista o, cosa che ospichiamo, revocata, ha concluso il presidente dell'Opi. è stata chiesta una replica alla direzione sanitaria dell'Aspide Agrigento tramite l'ufficio stampa, ma il commissario non ha voluto rilasciare dichiarazioni.